Ciao a tutti, sono Lorenzo Spiz e vi invito alla festa del mio compleanno in data sabato 9 agosto dalle ore 22 alle ore 4 con ingresso libero e gratuito per tutti. La festa si svolgerà nel giardino estivo del TAC in via Savona a Torri di Quartesuolo, provincia di Vicenza, vicino al casello autostradale di Vicenza Est. In caso di mal tempo la festa si svolgerà comunque all'interno del locale. Vi aspetto per una serata di musica e divertimento e la speciale console sarà curata da Ricky Magilla e Lorenzo Spiz. Aspetto tutti, amici, amiche, simpatizzanti e non, per festeggiare appunto il mio compleanno. Quindi appuntamento a sabato 9 agosto. Ciao a tutti da Lorenzo Spiz. Ciao a tutti.